musica ora io devo andare a fare storia perchè quella p***a la mia prof spero mi stai guardando in questo momento brutta e battati e tutta e brutta zon ciao per caso il tuo nome è una referenza alla carpa magica assoluta certo che porco è sempre fatto apposta che ogni volta che prendo qualcosa da quella c***o di mensola deve sempre succedere qualcosa porca m***a mio fratello sapete che non dice mai parolacce niente se vi salvate vi dico come va a finire la bibbia sai che ho scoperto ho scoperto che la bibbia è il libro più avuto nelle case degli italiani è il libro DAVIDE PORCA M***a musica 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 ehm allora stavamo parlando di evangelion evangelion è una m***a musica musica stavo dicendo prima che vi laggasse come una madonna di scordi m***a ehm l'avevo capito ok la prossima volta andiamo su streamyard scusate ahhhh c'è il fatto che stiano doppiando tutti questi anime è una cosa buonissima per carità di po' però non può nooo non si capisce un c***o 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 eri riman non è una cosa male cioè nel senso dire non è una cosa male italiano top veramente non è una cosa male è una cosa bene stavo scherzando non ti preoccupare no 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 c'è anche il cane che sta ribellando se canto la canzone che fa più o meno così sono piccoli problemi di cuore nati da un'amicizia che profuma d'amore sono piccoli problemi di cuore dove un bacio rubato e qualcosa di più cristiano vada piantucco applausi mai pensato di presentare mio padre se mi viene il cancro sapete il perché se mi viene un tumore sapete il perché grazie miele andre per il l'abbonamento ti lo so non è colpa sua in realtà è colpa mia che faccio ste sfide del pensando non si sa di nessuno quindi non sento proprio il tu sta per venire buono e canarsi al direttore del doppiaggio torna dopo 5 anni ma mi dissocio a questa cosa terzi siamo ma dove ma come ha come ha fatto a vincere ma ti rendi conto la vagina quando mai l'hai vista segnala giocatore o si o si o si o si c'è uno neanche neanche ha bisogno di accedere a ph.com no no basta guardare il desktop del proprio computer sei qua tranquillo c'è proprio tranquillo ti metti lì ti sfili le mutande e e poi fai la sbuvo in faccia a yoko easy più easy di così non si può ok vediamo famiglia registro elettronico e educazione civica 4 dai e porco porco roi devi morire sono pure in live su twitch mentre l'insulto è stato tifosa lurida che mi deve sempre mettere 4 ok guys carpe spiega il meme del che ti piace genshin impact a me non piace genshin impact carlino non non facciamo non diciamo queste strade ok a me non piace genshin impact porco neanche per scherzo dovresti dire queste cose neanche per scherzo e la cazzo è una canzone di immagino pò ti prego ti prego il ritornale lo vediamo perché mi ha rotto il cuore povera mè la linea di un bicchiere e tutti i pezzi tra le mani del potere povera mè c'è questo è stato cercano di fare qui aspettiamo solo te vai che ti aspettiamo solo te mostra il decorso mostra il decorso mostra il decorso dai capo stai chichi lo vogliamo vedere tutti lo vogliamo vedere tutti lo vogliamo vedere let's go let's go 11 mesi 11 mesi pure io pure io anche io dovrei ancora cenare prima mi sono fatto uno spuntino con la banana molto buona molto buona magari dopo vado a prendermi un'altra banana così sovraccaricamento di potassio e muoio ultimo boccone di lasagna se mi cade bestemmi impazzisco tutti mi ha dato quello che fa vive la libertà e no ho detto non si dice non si dice scusate io non credo effettivamente in quelle cose e effettivamente io non ragazzi siamo in 13 13 persone io vi voglio bene e è Grazie a tutti.